Un question time, una interrogazione al Ministro dell'Ambiente sull'inquinamento nella piana di Venafro. La presenterà Angelo Bonelli, l'annuncio dell'imminente iniziativa parlamentare ieri pomeriggio a Venafro dallo stesso coportavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. L'incontro organizzato dai responsabili regionali del partito ad aderire a associazioni ambientaliste ed uno sparuto gruppo di amministratori vecchi e nuovi, non entusiasmante in termini di presenze nemmeno la risposta della cittadinanza. L'orario della riunione nel pieno di un pomeriggio lavorativo ha inciso, d'altro canto attenti e partecipi i presenti. Sono i dati ISPRA, non quelli che diciamo noi, già nei primi mesi del 2023 ci sono dei superamenti inaccettabili sulla qualità dell'aria e in più vogliamo anche che sia data una risposta chiara sul tema dell'inquinamento dei terreni da cadmio sulla pianura di Venafro. Vanno date delle garanzie, vanno presi i provvedimenti giusti a garanzia della salute della popolazione ma anche delle attività agricole. L'inquinamento è sempre la sommatoria di varie fonti inquinanti, è sempre così? Da questo punto di vista la cosa che deve essere fatta andando per ordine, da un lato il tema della politica di incenerimento non è la politica del futuro dal punto di vista della gestione dei rifiuti ma dall'altro canto bisogna potenziare i controlli dell'ARPA. Vede molte situazioni di alto inquinamento nel nostro paese, penso a Taranto o altre zone, sono avvenute perché non si è esercitata quella forma di controllo attraverso gli istituti preposti al controllo, un po' perché erano sotto organico, un po' per altri motivi. E sulla possibilità di portare sotto i riflettori e soprattutto all'attenzione del governo la questione ambientale nella piana, Leo Terzano, esponente regionale del partito ambientalista rimarca l'importanza del ruolo dell'onorevole Bonelli. Adesso che noi abbiamo un punto di riferimento parlamentare, perciò abbiamo la possibilità di avere un'alta voce e fare delle interviste e delle richieste direttamente ai ministeri competenti non ci faremo scappare l'occasione per chiedere di intervenire immediatamente. Sono 20 anni e siamo stanchi noi molisani, specialmente noi molisani di questa zona del Venafrano siamo stanchi di bugie, di rimandare decisioni, di non accettare assolutamente la verità su questa zona. Questa è una zona che ha una qualità dell'aria pessima e dobbiamo risolvere il problema perché stiamo sottoponendo 30.000 cittadini molisani a un rischio per la salute grave. Un rischio grave, quello prospettato da Terzano, acuito dall'assenza di un registro tumori aggiornato sul territorio. Il tema del registro dei tumori è un problema che noi troviamo in altre regioni, in altri territori cioè il ritardo con cui si va a istituire è uno strumento fondamentale per analizzare la relazione tra aumento di tumori e anche attività inquinanti. Purtroppo dobbiamo dire che questi registri di tumori in molte parti d'Italia si sono istituiti grazie alla battaglia dei cittadini. Il nostro sforzo invece è fare in modo che anche piccoli territori ma che vivono una situazione drammatica siano monitorati anche dal punto di vista epidemiologico. Questo è un elemento fondamentale e questo è quello che diremo al Ministro.